Ma sicuramente sì, io e tutto il governo di cui ho l'onore e il privilegio di far parte non ha mai messo in discussione l'importanza dei vaccini per la battaglia contro il Covid-19 e quindi anche ora oggi sosteniamo pienamente la vaccinazione per le persone anziane, per i fragili, per i più deboli, contro l'influenza e anche la quarta dose del Covid. Grazie a tutti.